Ci sarà anche Erri De Luca quest'anno a Poetè, l'elegante salotto culturale ideato da Claudio Finelli e ospitato dal Chiaia Hotel de Charme che promuove la lettura e il teatro con un'attenzione speciale ai temi della libertà di espressione e di parola. In questo progetto c'entra molto la vicenda di Erri De Luca, Erri De Luca sarà il 6 novembre presente a Poetè perché chi più di Erri De Luca, chi meglio di Erri De Luca è l'immagine incarnata oggi dell'uomo a cui è in qualche modo preclusa e inibita la possibilità di esprimersi liberamente. Col patrocinio morale del comune di Napoli e della regione Campania e col sostegno di diverse associazioni del territorio Poetè giunge quest'anno alla sua settima edizione. Dopo un avvio sperimentale e giocoso la rassegna rappresenta oggi un punto di riferimento culturale in città. Inciampai in Pietro Fusella del Chiaio Hotel de Charme perché mi stava davanti, io camminavo a faccia alzata anche lui e lui rialzando e ha detto ma quando è che fai qualcosa da me? E io ho detto fermi tutti, tra una settimana presentiamo un libro da te. Io penso che con la cultura si possa creare ricchezza da tutti i punti di vista, non solamente economico. In particolare a Napoli dove la classe dirigente io penso che spesso è troppo assente, io invece penso che bisogna partecipare in prima persona quando si hanno i mezzi per far sì che ci sia la ricchezza di cui parlo per tutti. Questo è ancora un privato un po' raffinato e raro, io vorrei che invece i privati, la borghesia, gli imprenditori si attivassero molto. Quando si lancia sempre l'allarme che Napoli è una città piena di problemi, complessa eccetera, credo che ciascuno si debba rimboccare le maniche e nella sua parte fare molto di più di quello che si sia fatto nel passato. Se si eleva il livello culturale di una città si crea una comunità, cioè si crea una rete e si crea quindi una sussidiarietà reciproca che secondo me è una forma di economia di prossimità che può dare vita invece ad uno sviluppo economico della città. La cultura come anticorpo civico per superare i pregiudizi, soprattutto quelli legati all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Nel corso di questa stagione nel salotto di Poetè saranno ospiti fra gli altri Franco Buffoni, Giovanni Dallorto, Paolo Isotta, Antonella Cilento, Gioconda Marinelli, Luigi Romolo Carrino. Più libri, più cultura, più cultura, meno omofobia e meno violenza, soprattutto per fronte delle donne, degli omosessuali, delle persone transessuali. Quindi benvengano iniziati come Poetè e vorrei ricordare appunto anche la Fondazione Genere Identità Cultura che è una biblioteca online con più di 800 volumi che sono appunto dati a tutti gli studenti e gli esperti che vogliono affrontare il tema. Quindi venite in fondazione e venite a Poetè perché sarà un momento piacevole per tutti. Henry De Luca oggi è un caso, è uno scandalo. Oggi Henry De Luca è uno scandalo e ovviamente Poetè si interessa degli scandali perché la discriminazione, il preconcetto, il pregiudizio nel 2015 è uno scandalo.